Ragazzoli belli, benvenuti tutti quanti su questo nomissimo video. Vi volevo ricordare ragazzi che se volete supportarmi nell'item shop di Fortnite potete farlo tranquillamente utilizzando il codice creatore CROATOMIST quindi basterà andare nell'item shop, cliccare su supporto in creatore e andare a digitare il mio nome ovvero CROATOMIST accettare ragazzi e il gioco sarà fatto. Vi ricordo inoltre ragazzi che ogni qualvolta shoppiate qualsiasi skin su Fortnite avete anche la possibilità di taggarmi su Instagram e io farò in modo appunto di condividere ogni singola vostra stories. Quindi ragazzi grazie a tutti quelli che dicevano di supportarmi ma adesso godetevi questo fantastico video. Fa strano squad rank ad un po' c'è, non lo so, non mi dà quell'idea. Siamo contestati? Sì, sì, sì. Allora, sono più bassi di me alcuni. Il mio landing è buono ma mi sa che vanno sul tetto sicuro. Sì, Fè, è più basso di te uno. Là c'è una mitraglia, posso prenderla. Vado sul tetto, Fè. Marchi uno dietro. Vado su una mitraglia qua, sono sotto il balcone, quello sotto. Uno è qui, uno pingo. Faccio i cildini. Anche io c'è i cildini. Io c'è il mio ping. Io c'è i cildini e pompa. Vabbè, io c'è i cildini e mitraglia. Facciamoci il loot, non... Tiè, andiamo a spaccare. Io ho tutto, lo ho dato ragazzi della madonna. Uno sta facciando davanti alla casa. Mi lanci una granata. Sì. È tutto lo scudo, quello è tutto per di te. È tutto il fieno, regali, flanco. Lo scudo solo qui. 29 è blu, uno è metà spieno. Mi sta pushando uno. Guardo, guardo, guardo. Mi ha hitato. Sono sul tetto, ragazzi. Uno white, uno white. Sto pesciando, sto pesciando. 30 piano, 30 piano. Anche, sono cato. Pushiamo, pushiamo, pushiamo. Uno è no cato, uno cato. Ok, ma hanno rotto lo scudo. Uno è costato da me. Pucciato, pucciato. Vengo da voi, vengo da voi. Uno è no cato. Mi ha rotto lo scudo da me. Un altro è no cato. Guarda me, ce n'è uno. 30, 2 a questo. Sopra, 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 sopra. È white, è white. Bianco, bianco, è morto, 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 morto. Guarda me, GG. È morto. Bravi. Guarda nel nostro. Prepariamoci, regà, perché siamo pure in safe. Quindi arriveranno da ovunque. Un'aug, ben accetto. Qual è il tuo ping, bro, scusami? Lui è il bro. Alex è il bro. Ah, il mio bro, sì. Alex è il bro. Alex è il bro. Alex è il bro. Hai bisogno di far scendere. No, io ho anche il mio ping a trarre. Ah, ok. Non so perché non lo vedevo. Ora non vedevo l'arma. Ma qualcuno è un tanti coperta? Sono. Alex, ti lascio. Vieni, vieni, vieni. Ti tieni, tieni. Dai, grazie. Io ti posso più scioccare a fuciudare, Alex. Completamente fuciudare. Allora, riceve un team, me lo vengo. Al mio 330. Sono boxati, ve lo rimette, giusto? Eh, ok, levo il cecchino che ho trovato tra i cildini. Eh, ok, io ne ho tre anche. Ok, cildone, me lo posso fare io? Sì. Oh, bella, Martina, come stai là sopra? Se vi è bene il sole? Eh, sì, mi sono messi anche per vedere tutto. Ti devo fa? Ti do il big, c'è uno slot. C'è una sud, ve lo vengo. Uno? Uno, due, tre, sono tre. Non vede il quarto. Vengono verso Inoia? Sì, stanno boxando. Sì. Iniziamo ad andare già in safe. Conviene. È distantissimo. Guarda, 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 guarda. Ok, con lì sono montagna. Stanno editando, eh? Stanno piccando da... Dall'altra parte. Dall'altra parte, sì, sì. Qualcuno guardi dietro, quelli di prima. A posto, a posto. Questi non ci vedono, questi non ci vedono. Guarda, 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 guarda. Grazie, per forza, pure informazione personale, per fare 100 metri, c'è un 19 secondi, eh. Ragazzi, due ceste qui. Sì, sai. Sì, nice. Senza guardare i quadretti di cose. Oh, guarda, guarda. Fa la pente. Assalto blu. Un botto di casino. Sì, si fa. Li vedo, li vedo, li vedo. Ok, va bene. Iniziano a vedere anche questi. Eh, ci vedono questi, attenti. Dove vogliamo andare? No, dobbiamo andare in punto stretto. È per forza, sì. Da qua sotto, da qua sotto, così quelli sul giallo non ci possono pittare. Piccolo da davanti, però. Da là? Sì, da lì, bro. E anche da sopra a sinistra, se non sbaglio. Ci piccolo da nord? È in zona, raga, mazzone. Ci boxiamo qua? Sì, sì, ci boxiamo qua. Per noi? Sì, mi fa che sia. No, no, no. Posta, posta, posta. Oh, non possono più fare il double bar. Tanto che mi dispiace. Adesso fanno il double lanciarazzi. Sì, ne vediamo. Quasi boi lanciarazzi. Ho pure 40 nade in testa. Credo che quelli a sud-est sono già mosso. No, 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 no. Non ho mai visto una cosa del genere. Come no? Sul mio corpo c'è una notte a sfruttare. Non c'è una notte a me? Oddio. Allo spazio, uno dei martì, eh. Eh. Mi ha fatto tutto il mattone. Da me, da me. Da me è che tutto quanto è boxato il mattone ferro. Arrivo subito. Da me c'è il mattone ferro in AIG, eh. Il problema delle gatti è che neanche le sei. No, no, io mi sono arrivati. Mi hanno colpito ma non ho idea di come. Efe, io ricordo giocavamo con Ander che l'abbiamo fatta e lui. Sì, sì, sì. Ah, sì. Mi fa c'era che le nette le trovi tipo sempre. Adesso, troppi esplosivi hanno messo con qua. Eh, regà, allora io c'ho 400-100 di mazza. Vedrami qualcosa se ne... Martì, com'è stata tua mazza? Sì, ho 3-4 massimo. Io smetto qualcuno di voi. Pensa tu, Martì, tu ne hai molto di più. Scammed. Eh sì. Dai, penso ne abbiamo uguali ora. Quanto ne hai? Quattro, due, tre. Io c'ho, 300, due, 300. Quattro, due, tre, siamo uguali. Dobbiamo un ballerci, ragazzi. Ne avete poco più voi. Andiamo subito, va. Vamos. Stanno affacciando. Stanno affacciando, stanno affacciando, stanno affacciando. Metti due, metti due. Lasciali, 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 lasciali. Occhio, no, è da ovest, che c'è un team che si è appena scappato. E lei tra poco lo prende, ma tanto bisogna agire. Eh, mi sparo, non mi sparo, non matto. Non tocca più, dobbiamo buildarle. Spandare di per te. Sto avanzando, sto avanzando. Finzone. Mi metti per la mira, Vez. Finzone, finzone, mi sparo. Prendere anche più centrale, sinceramente. Io ammattavo qualcuno qua. Comunque, un'altra serie goal, magari meglio. Prendere anche più. Ho un'altra. Ho due! Ho due! Ragazzi, dopo il video, ho due. Ho due il finish. Ho due il finish. Ho due il finish. È il mio? Ok, pure il mio. 2 razzi eh devo sfumare questo lenta 2 blu ragazzi questo qua sta rinc***nito sta sconvolto proprio vado in aid 100 blu 800 blu alziamoci il ferro ok naders si non ti preoccupare raga ma se la serassimo che si qua che sono tipo tutte grelle tipo al 3-1 mosh li vedi i piedi a qui ma dove dove? qua da me 15 15? ci sono i marini però ci sono 2 mi mosh 101 non feticista Alec attenzione triple 19 tipo 19 qui sono lì non mi chiudete potremmo anche andare più alti ragazzi eh abbiamo gente qua sotto sono là non cado uno ragazzi triple 19 di nuovo ragazzi uno non cado da meno 29 bianco da per terra lì questo 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 è il mattone chi è? ragazzi c'è uno ragazzi tanti qua eh al mio ping a sud c'è uno di voi scoperto a volte che si scopra forse vogliono fare le nade eh ho visto che avevano delle nade in mano me ne sono tre qua dentro ragazzi dobbiamo mantenere la idea non l'abbiamo non l'abbiamo la sera è lì 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 non lo so starci ragazzi vai uno che è builta gli altri che morto culo effetti segue ma His望 mettiamo l'Aigo eh mi sbarrano ma non abbiamo a Mぜポ類 zob uno con voi facciamo un solo floor Facciamo un solo floor Stai facendo uno Bianco Morto Salle uno 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 Uno qua sotto Guarda uno E white Io sono morto ragazzi Morto un altro Raga siete contro uno Contro uno Perché sono noccato È l'ultimo Digi Dai Così devono stare Sempre cazzo uniti Sempre cazzo uniti Sempre Io a un certo punto Mi hanno fatto cadere Me la sono rischiata Ho fatto 104 più 12 a 1 È rimasto 20 HP No Lo ì